Ciao a tutti amici di Jovatec, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare ad eseguire un backup manuale delle foto e video presenti all'interno di un dispositivo Apple. Nel mio caso andiamo a vedere come andare a copiare tutte quante le foto e video presenti all'interno di questo iPhone XR. Capita spesso che dobbiamo andare a resettare ad esempio il nostro dispositivo alle impostazioni di fabbrica, però non vogliamo perdere ovviamente tutte le nostre foto e video presenti al suo interno, quindi possiamo andare a copiarcele manualmente in un percorso sul nostro computer, in un hard disk esterno, chiave USB, scegliete voi cosa preferite, in modo tale che anche se andiamo poi a ripressionare il dispositivo abbiamo da parte il nostro backup e tutti i nostri dati sensibili non andranno persi. Per eseguire un backup manuale di foto e video presenti all'interno di un dispositivo Apple è abbastanza banale, ci basterà prendere il cavo USB in dotazione, quello che solitamente utilizziamo per la ricarica del nostro dispositivo, collegarlo nella porta USB del nostro computer e poi l'altra estremità collegarla nel nostro dispositivo Apple. Una volta collegato il computer installerà i driver e troverà qui un dispositivo Apple. Quando ci clicchiamo sopra o da qui oppure banalmente dall'esplora risorse di Windows, da questo computer, scegliete voi come arrivare, troverete qui una nuova unità chiamata Apple oppure col nome di come avete chiamato il vostro dispositivo. Adesso questo può variare. Troverete comunque questa unità con la memoria sua interna. Dentro qua attualmente vedete che è vuoto. Questo perché il dispositivo per essere visto bisogna sbloccarlo. Quindi andate banalmente a sbloccare il dispositivo con la vostra impronte, con il pin, la password, quello che utilizzate solitamente. Una volta inserito adesso se lo schermo è sbloccato troveremo qui di nuovo sotto l'esplora risorse all'interno di Apple il nostro storage della memoria interna con una cartella chiamata DCIM. Dentro questa cartella qui saranno presenti tutte quante le foto e video che voi trovate solitamente all'interno della galleria, quella chiamata rullino. Se entriamo vediamo tante sottocartelle e ognuna di queste al suo interno avrà come vedete le foto e video. Ci basterà quindi banalmente se ci interessano tutte copiare l'intero DCIM e andarlo a incollare in un qualsiasi percorso che può essere qua banalmente il nostro desktop, il nostro quindi pc, un'altra partizione, un hard disk esterno, una chiavetta usb. Una volta fatto comunque copia e incolla e aver terminato la copia di tutto quanto il dispositivo abbiamo finalmente terminato possiamo scollegare tranquillamente il nostro cavo usb e poi al massimo ripristinarlo di fabbrica se non ci dovesse più servire o comunque se non dovessimo andare lì a recuperare ulteriori cose. Questo era per andare a copiare solamente la parte di immagini e video però poi ovviamente per eseguire un backup completo prima di ripristinarlo c'è anche il bisogno di ad esempio andare a recuperare tutta la rubrica, i documenti vari scaricati, le varie impostazioni delle app, ci sono diverse cose che si possono andare a backupare. Qui con questa guida di oggi abbiamo visto come backupare banalmente immagini e video. Con questo è tutto spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su jovatec.com Grazie. 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 Grazie.